Siamo dunque alle pagine sportive, riprendiamo dal Corriere dell'Umbria, Calcio, Serie C, Perugia, Camplone, Grifo, Airaggi, X. L'ex allenatore bianco-rosso, Santo Padre, vuole vendere ma alla fine non lo fa mai. Il Girone C è meno tosto del raggruppamento B dove tante società hanno problemi molto seri e sono in difficoltà. Intanto dal mercato arriva in prova il mediano Squarzoni, cresciuto nel Verona. Da Gubbio ora è ufficiale, Durzi, Idea, Iaccarino e Carretta. Ancora da Terni, Fere e Luperini verso Catania. Al secondo giorno di retiro a San Gemini tengono banco le operazioni di mercato. Si teme che dopo il quasi certo addio della mezzala potrebbero partire altri big. E poi Serie D l'Orvietana è pronta a sudare a bagno regio grazie all'ex portiere diventato sindaco. Mentre nel mercato dei dilettanti il Todi blinda la porta con squadroni. Andiamo al volley. Sir, Girone e Tosto in Champions, Pool D per i bianconeri con Ancara, Sennazer e Budejovice. Lorenzetti sono tutte squadre che hanno vinto i rispettivi campionati ma ci faremo trovare pronti. Ancora basket a Serie B interregionale. La Val di Ceppo c'è e riparte dai veterani. Mesc, John e Fico ancora nel branco pronti a dare battaglia. Per la palla a volo Serie A3 San Giustino apra la vallata. Cambia nome si chiamerà Herm Group Volley Alto Tevere. Per il calcio di promozione il Foligno mette nel mirino due diciottenni. Alla corte di proietti in arrivo carnevali e chiacchierini. Per il calcio di eccellenza Tomassoli lancia la sua ellera. Giovani sì ma ci faremo valere. Tiro con l'arco. Falchetti oro a squadre agli europei giovanili. Il Ternano anche bronzo individuale nello European Yacht Cup Circuit. Per la scherma il tecnico Daniele Anile. Siamo a Terni del circolo di Terni al seminario GB Italia. Per il subbuto sempre da Terni Mattiangeli si veste d'azzurro e convocato per i mondiali. Questo era il Corriere. Andiamo al messaggero. Fere abate detta i tempi ma non basta. Il tecnico è già in sintonia con la squadra come si vede il ritiro. Quello che manca è la voce della società che resta in silenzio. Mercato sfumano le opzioni di Capozucca e Luperini è in partenza. Per Terni ancora campionati FISDIR il sorriso di Eleonora. Grazie al nuoto mi sento libera e felice. È stata l'atleta che ha vinto più medaglie. Andiamo a parlare di Grifo. In partenza pure Vulikic. C'è lo spezia per il croato. Anche lui con la valigia pronta. L'affare Gliannoni Lazio vale 1.200.000 euro. Farroni in lista per il ruolo di numero 1. Colai per l'attacco. In prova il giovane mediano di scuola Verona. Squarzoni. Per il volley Sir girone di Champions con francesi, turchi e cechi. E per il volley le Black Angels ufficialmente iscritte alla A1. Chiudiamo con la nazione. Perugia. Il mercato in uscita si accende. Vulikic verso la B. Lo spezza in pole. In dirittura d'arrivo anche l'operazione con la Lazio per gli annoni. Seghetti è in corsa a 2. Pisa e Sassuolo sull'attaccante. Intanto parla l'ex Camplone. Grifo. Ai miei tempi avevamo giocatori importanti. Terzo giorno intanto di lavoro a Pian di Massiano. Oggi l'unica doppia seduta della settimana. La Sir. Volley e stratti gironi di Champions. Ma l'abbiamo già visto. Ternana. Luperini e saluti. Il pressing del Catania per il centrocampista starebbe avendo esito positivo. Per la Bartoccini. Serie A1 femminile del volley. L'iscrizione alla A1 è fatta. Ma noi vi facciamo leggere. Anche questo titolo che apre al nostro prossimo servizio. Si è spento ieri Joe Bryan. Il papà di Kobe Bryan. Incantò l'Italia e ispirò proprio il figlio. Addio al cestista che diede spettacolo per sette stagioni in Italia dopo aver lasciato l'NBA. Aveva 69 anni. Il figlio, ricordate, Kobe Bryan, morto con la figlia in un incidente in elicottero. Ebbene, proprio a Kobe Bryan è dedicato a un'associazione, Black Mamba, che a Gualdo ha una sua sede ma che in realtà poi è presente in molte altre parti d'Italia. Si è concluso domenica scorsa un torneo di basket proprio organizzato dai giovani della Black Mamba. Ci siamo andati, li abbiamo visti giocare e divertirsi. Ve lo raccontiamo. Metti quattro sere di sport e divertimento in un vecchio campo da basket che di storia ne ha vista tanta, dagli anni 70 a questa parte, tirata a nuovo da una giovane associazione, Black Mamba, aiutata da una più strutturata a educare la vita buona, con il sostegno economico del comune. Metti poi 220 tra bambini e ragazzi provenienti dall'Umbria e dal resto dell'Italia, tutti con nel cuore il ricordo di un grande del basket mondiale, prematuramente scomparso, Kobe Bryan, che continua a far sognare generazioni di appassionati mentre giocano con la palla spicchi. Con questi ingredienti e meritati applausi a Gualdo Tadino, presso l'Oratorio Salesiano, si è chiusa domenica 14 luglio la quattro giorni del torneo di basket afferente al circuito nazionale LB3, organizzato dall'associazione Black Mamba. Sport certamente con gare nella formula 3x3 disputate in sei categorie di differenti età, dai nati del 2014 agli over 18, mini basket, brookie, next generation, Mamba Cheetah, Mamba Girls ed Elite, ma soprattutto spettacolo con gare di schiacciate e tiri da tre, tutto con dito, con divertimento pure, un'organizzazione che ha dato spazio anche al food and beverage per i numerosissimi ospiti. Sono stati quattro giorni emozionantissimi, dove abbiamo visto la partecipazione di un grandissimo numero di persone provenienti da tutta l'Umbria, tutto il centro Italia e anche diverse squadre dall'Emilia Romagna, dalla Puglia, quindi siamo riusciti a far arrivare il nostro messaggio, la nostra voglia di giocare a basket e divertirsi insieme, anche in altre realtà lontane dalle nostre. E quindi siamo contenti che questo nostro progetto, che è iniziato quattro anni fa nella location dei campetti di cartiere, ora che abbiamo portato qua nel campetto storico della città di Gualdo Tadino, qua ai Salesiani, sia riuscito a crescere e speriamo continui a crescere in questo modo. A questa quarta edizione del Black Mamba Tournament hanno preso parte davvero ragazzi di tutta età, ragazzi e ragazze, dai più piccoli del 2015 fino ai più grandi. Alcuni hanno addirittura vinto mondiali ed europei di categoria over, quindi veramente tutti nelle rispettive categorie, sei categorie, che quindi hanno permesso a tutti di giocare con i pari età, divertirsi e mostrare sul campo chi ne ha di più. Sicuramente l'ambientazione aiuta perché questo è il primo campo in cui è stato giocato, appunto in cui è nato il basket qui a Gualdo Tadino, e in cui sono cresciuti ragazzi come la nostra Moira, che noi chiamiamo mamma Moira. Ci sono cresciuti comunque ragazzi anche come noi che venivano a giocare qui il pomeriggio. E' soprattutto un piacere aver fatto rinascere un ambiente come questo, che comunque era da un po' di tempo che era un po' messo da parte dalla città di Gualdo. Il torneo LB3 è un circuito nazionale parallelo al circuito federale di basket, la tappa di Gualdo Tadino è valsa come qualificazione per la finale di Roseto degli Abruzzi, dove approdano due squadre per ciascuna delle sei categorie, e non è mancato di vedere veri e propri talenti di giovanissima età con le ali ai piedi. Ma come ti vengono in mente quei salti che fai per fare canestro? Non lo so, sono naturali. Bravi loro, allora chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, vi ricordiamo l'appuntamento con ITG a partire dalle 19.30. Grazie per averci seguito, buona giornata.